Pedalare per raccogliere fondi da destinare alla ricerca, così la Fondazione Celeghine durante la sesta edizione della Maratona Ciclistica da Santo a Santo ha deciso di donare alla Fondazione Besta Neurosim Center di Milano 295 mila euro. Abbiamo finanziato un progetto molto importante all'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e questo grazie ai proventi della nostra impresa ciclistica da Santo a Santo dello scorso anno. Invece di esportare cervelli, questa volta li importiamo perché questo centro richiama a sé medici da tutto il mondo. Fondi che serviranno alla formazione e all'addestramento di nuovi medici neurochirurghi di questo centro di eccellenza europeo unico nel suo genere per l'approccio innovativo. La Fondazione Giovanni Celeghine Onlus di Padova dal 2012 opera con l'obiettivo di raccogliere fondi per finanziare progetti di ricerca scientifica sui tumori cerebrali. Archiviata positivamente la sesta edizione della Maratona, Annalisa Celeghine, presidente della Fondazione, sta preparando la settima che porterà i partecipanti a correre per le strade della Sardegna. Saranno sei tappe, circa 1000-1100 chilometri per la ricerca sui tumori cerebrali. Saranno sei tappe, circa 1000-1100 chilometri per la ricerca sui tumori cerebrali.